Macro categoria imprese, categoria servizi e consulenza, premio eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, consulenza e servizi per le piccole e medie imprese, amministrazione e finanza. La motivazione per essere un'eccellenza in forte crescita che è stata in grado di sviluppare grazie a un team di esperti le modalità per automatizzare alcuni processi per la gestione della contabilità, per essere stata d'aiuto in un momento di estrema difficoltà ai liberi professionisti, assistendoli a 360 gradi nella gestione della loro partita IVA. Il premio va a FlexTax. Ed è con me in collegamento Fabio Pennella, CEO di FlexTax. Fabio, bentrovato. Grazie, bentrovati a tutti voi. Naturalmente complimenti e insomma le chiedo subito un commento. Beh, davvero grazie mille, siamo molto onorati di questo premio che è frutto di un lavoro di squadra di tutto il team, dagli sviluppatori al servizio clienti, l'amministrazione e soprattutto dal nostro network di consulenti fiscali. Stiamo continuando a sviluppare nuove funzioni che contribuiranno ancora di più a sopportare i consulenti e ad offrire nuovi strumenti e servizi ai nostri utenti per aiutarli sempre di più nella gestione della propria partita IVA. Per quanto riguarda la motivazione, soprattutto il secondo punto della motivazione del premio, quindi per essere stati in un momento di difficoltà un aiuto per le partite IVA, mi piacerebbe estendere il riconoscimento a tutti i commercialisti, consulenti fiscali, consulenti del lavoro e CAF di tutta Italia, che si sono ritrovati in questi mesi e ancora oggi a fare tutto il possibile per stare a fianco degli imprenditori, tra bonus fiscali, spostamento dei pagamenti, finanziamenti garantiti, cassa integrazione. Credo che se fossimo nella sala della Borsa Milano, dove questo evento doveva essere organizzato, un applauso a tutti i professionisti d'Italia sarebbe stato d'obbligo. Anche perché credo che questa battaglia e questo virus si combatte su due fronti, quello della salute ed anche quello economico. È stato fatto un grande lavoro da noi, ma io credo da da qualunque professionista in Italia che ha dovuto combattere anche loro. Certo, certo, ma guardi Fabio, comunque l'applauso lo possiamo fare, sia virtuale, se lo vuole anche simulare, insomma, è come, ecco, vede che alla fine si può fare tutto, no? È certo, poi dopo ci auguriamo che possa sentirsi ancora di più in modo fragoroso all'interno di Borsa, dove appunto avremmo dovuto vederci, ma sicuramente capiteranno altre occasioni. Io le chiedo a questo proposito, visto che stiamo guardando in prospettiva, come vedete il futuro? Beh, guardiamo il futuro iniziando guardando il presente ed è per questo che in questi giorni abbiamo deciso di far partire un'azione, quindi una vendita di quote societarie tramite un portale di equity crowdfunding, è un portale autorizzato dalla Consob, il portale è quello di Opstart. Partirà una campagna che permetterà a tutti di poter investire in Flex Tax a partire da 500 euro e anche in questo caso abbiamo deciso di usare un sistema innovativo di raccolta di capitale e speriamo quindi che nelle prossime settimane di avere tanti nuovi soci che come noi vedono ancora nel futuro nuove opportunità da cogliere. Eh bene, questo nuove opportunità da cogliere è il modo migliore diciamo per chiudere questo collegamento, proprio parlando del futuro, peraltro abbiamo sottolineato come siate stati presenti in un momento di estrema difficoltà, quindi complimenti da parte mia a tutto il team e grazie a Fabio Pennella, CEO di Flex Tax per aver parlato con noi. Grazie mille, grazie a tutti voi, buon lavoro. Buon lavoro. Grazie a tutti.